Puntata numero 3 della nostra scuola di desideri. Buona giornata a tutti. Altro parallelo con l'autismo, altro ostacolo che dovremo superare, è quello che dà il titolo a questa puntata. Eccolalia. Cosa vuol dire eccolalia? Eccolalia vuol dire una ripetizione automatica, compulsiva, di parole o di frasi. Gli autistici hanno questa cosa, ripetono tante volte. Ecco, qui la situazione è particolarmente grave, perché l'eccolalia c'era già prima del covid in Italia. Avete mai sentito l'espressione piuttosto che, quant'altro, regalare, usatissima per la televisione, portare a buon fine, aprire un tavolo delle trattative? Ecco, l'elenco è molto lungo, è terribile. Queste sono eccolalie, indicano un impaccio mentale. E c'erano, già prima del covid, c'erano. Era, parlando con una persona, diciamo, molto sensibile alla televisione, era un po' uno strazio, perché sembrava che le frasi di questa persona passassero da un luogo comune a un altro, con dei ponti che collegavano un quant'altro a un piuttosto che. Durante la quarantena l'eccolalia si è aggravata, perché? Perché le notizie erano sempre quelle. Cioè, era un ripetersi dello stesso giro di frasi, contagi, non contagi, eccetera. Niente da dire, era una situazione tragica, però c'era un costo psicologico. Ecco, per i desideri serviranno parole, tante. Bisognerà arricchire il vocabolario. Già c'è una cosa da dire. Voi sapete cos'è il vocabolario attivo? Il vocabolario attivo è il numero di parole che una persona di media cultura sa usare senza difficoltà. Gli inglesi, che hanno una lingua molto ricca, hanno un vocabolario attivo sulle 25.000-30.000 parole. Gli italiani hanno un vocabolario attivo sulle 7.000 parole. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il mondo degli inglesi o dei tedeschi, che ne hanno 20.000 di vocabolario attivo, 20.000 parole, il mondo dei tedeschi, il mondo degli inglesi e il mondo degli italiani è lo stesso. Le menti sono le stesse. Però, quando il tuo vocabolario attivo è piccolo, tu quel mondo lì e quella mente lì le usi meno. Ha un diametro più ristretto il tuo mondo e la tua mente. Quindi andrà arricchito il vocabolario per fare bene la tecnica dei desideri. Andrà allargato il mondo. E' quello che faremo. E' quello che faremo. Per adesso stiamo vedendo gli ostacoli. Poi passiamo alla pratica positiva. A presto.